Maria De Filippi, il giorno dopo Sanremo. La scala non l'ho scese perché sapevo che non lo sapevo fare, anche perché si doveva mettere i piedi su una parte esatta dello scalino, perché la scala si componeva man mano che si scendeva. Comunque Sanremo è il festival della musica e non di come scende una persona. Di Carlo dice, è stato bravissimo e sincero, cosa che non sempre avviene. Alla domanda se lei farebbe Sanremo, la regina di Mediaset risponde di no, anche perché scegliere le canzoni come direttore artistico è in assoluto la cosa più difficile. Io ho partecipato anche perché proprio questo ruolo era di Carlo. Alla domanda di Giletti che ripete la domanda, se Maria tornerà, la De Filippi risponde, io ho già dato, voglio solo tornare a casa, dalle mie cose.